dantesca a tradimento, a guato dantesco, chi c'è c'è e chi c'è può vederlo poi comodamente in differita, diretta breve breve e volevo parlare a voi di arcobaleni perché ieri mio bimbo ha disegnato un bellissimo arcobaleno e a me è venuto in mente un arcobaleno magnifico che dipinge Dante nel canto dodicesimo del paradiso canto dedicato a San Domenico come si volgono per tenera nube due archi paralleli e con colori quando giunone a sua ancella iube nascendo di quel dentro quel di fori a guisa del parlar di quella vaga camor consunse come sol vapori e fanno qui la gente esser presaga per lo patto che Dio con Noè puose del mondo che giammai più non s'allaga così di quelle sempiterne rose volgensi circa noi le due ghirlande e sì l'estrema all'intima rispuose miniera di meraviglie siamo nel cielo del sole le anime dei sapienti le anime appaiono a Dante in coreografie danzanti di luce danzano vorticano a una teoria a un cerchio di di a un giro di di anime ne vede arrivare un'altra quindi iniziano esserci delle corone di beati a una prima corona di beati ne sopraggiunge un'altra e quindi le due si riflettono ecco a parte questa similitudine che in realtà è una acrobazia di 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 similitudini come due archi paralleli e c'è questo aggettivo bellissimo che un aggettivo prezioso è un latinismo con colori che è bello essere con colori sto pensando nella vita essere con colore a qualcuno quindi questi due archi paralleli con lo e con colori che cosa rappresentano rappresentano la dea iride che annuncia è una messaggera che ha questo appunto questo arcobaleno quando giunone la manda da qualche parte quindi la prima la prima similitudine il primo parallelismo a questa similitudine che è comunque la similitudine è quella di giunone che ordina a iride di fare qualcosa quindi c'è un qualcosa che nasce dal dentro e va di fuori e sembra questo gioco di due corone di beati che rappresentano un doppio arcobaleno sembra che uno sia l'eco dell'altro ma ecco è una ninfa la famosa ninfa innamorata di narciso tra l'altro di un uomo che si innamora del proprio riflesso quindi è sempre c'è un riflesso visivo e un riflesso uditivo che è colei camor consumse che si consumse d'amore quindi abbiamo due corone di luce che sono simili a due arcobaleni i quali ricordano giunone e quali uno echeggia l'altro in un effetto che è un effetto però acustico e dopo questa triplo salto mortale retorico gli arcobaleni e qua è dove voglio arrivare oggi con queste istruzioni per essere felici gli arcobaleni fanno la gente essere presaga ma che cos'è l'arcobaleno e questa è la cosa più bella è il patto che Dio fece con Noè del mondo che giammai più non s'allaga in una delle prime dirette mordi e fuggi in uno dei primi agguati io avevo parlato di questo verbo che era dislaga quasi come un invito ad allargare la nostra mente ecco qua non è un dislagare qua un allagare Dio decide di non allagare più il mondo quindi riferimento è al diluvio universale l'arcobaleno è il patto che Dio fa ecco vedete sempre una luce dietro di me perché io sono mai fasciato di luce è il patto che Dio fa con l'uomo dove promette che all'uomo non farà più del male ogni arcobaleno ci ricorda questo ci ricorda la speranza dello scampato pericolo andiamo a vederlo questo passo vita di Noè Noa tradotta da Erri De Luca per la Feltrinelli Erri De Luca ha fatto una serie di traduzioni ha fatto Esodo Sansone eccetera e disse Elohim questo è segno dell'alleanza che io do tra me e tra voi e tra tutto fiato di vita che è presso di voi per generazioni mondo il mio arco ho dato nella nuvola e sarà per segno di alleanza tra me e tra la terra e commenta Erri De Luca il mio arco è un'arma che Elohim depone al suolo perché il diluvio è stato il più micidiale ordigno di strage lo poggia a terra con la curva rivolta verso di lui perché se uno porge un coltello deve tenerlo per la lama e offrire il manico è il mio arco dice Elohim mostrandolo in cielo per la prima volta ecco questa è la speranza Dio dice Dante ha fatto un patto non allagherà più la terra non farà più del male al mondo agli uomini non è Dio che punisce gli uomini non c'è questa responsabilità divina è un'immagine che parte come un'immagine preziosa appunto due corone di luce che sembrano due arcobaleni paralleli i quali ricordano Giunione e la dea Iride Iride sì non ho detto Iside durante questa ma chi lo sa mi riascolterò l'ho detto Iside sarà un lapsus proibiano la quale il quale riflesso è sì un riflesso visivo ma è un riflesso anche uditivo l'eco è un riflesso sonoro di una donna che muore si consuma d'amore e questo patrimonio pagano viene integrato dal patrimonio biblico per cui questa bellezza fino adesso abbiamo la bellezza delle metamorfosi Dovidio questa bellezza diventa una parola data Dio depone le armi e non ci farà più del male spero che questo arcobaleno possa essere per voi nutriente ieri avevamo una magnifica luna piena sono giorni di sole che noi non stiamo particolarmente godendo eppure come dicevo mio figlio ieri disegnando aveva voglia di disegnare un arcobaleno è vero è qualcosa di magico ma è un patto tra noi e il divino è un ponte che in qualche modo ci permette ancora di comunicare domani non scherziamo ore 18 sul mio canale sulla mia pagina non è un canale mi stavo montando la testa sulla mia pagina alle ore 18 farò la diretta farò la lezione l'incontro l'avventura dantesca che avrei dovuto fare a pagina 12 con l'amica Roberta parlando del canto secondo del purgatorio parlerò appunto di amicizia di sirene e di campi e di musiche spero che voi ci siate e se non ci siete non vi preoccupate perché che bello poter rivedere le cose tanto di tempo ne abbiamo non vi preoccupate un grande abbraccio a tutte quante e a tutti quanti vedo dei saluti appunto di persone mi dicono che sono sempre iridescente speriamo speriamo di essere un po' iridescente c'è l'arancione bello l'arancione che dipinsi con mia moglie quando eravamo giovani io giovane non lo sono mai stato ma eravamo senza figli quindi avevamo tempo di dipingere una bellissima giornata a tutte quante e mi raccomando fate accendere arcobaleni nel vostro cuore l'arcobaleno è un atto di pace Dio non può farci del male ciao ciao